Cari amici ben incontrati, in questo giorno, che è appunto venerdì 2 ottobre, in cui la Chiesa fa memoria degli Angeli Custode. È una bella occasione per riflettere su questa misteriosa, bella e gioiosa presenza dell'Angelo Custode nella nostra vita personale. Iniziamo invocando il dono dello Spirito. Vieni, o Santo Spirito, vieni in fiamma il nostro cuore, rendilo umile e povero, aperto alla Tua luce, pronto all'ascolto della Tua voce. Vieni, o Santo Spirito, vieni e togli il velo dai nostri occhi, perché riconosciamo Gesù, presente nei piccoli e nei poveri, presente nel segno umile e silenzioso del pane e del vino consacrati. O Santo Spirito, vieni, vieni soffio che porti la parola e silenzio che stai nel cuore di essa, vieni. Il brano proposto è tolto dal Vangelo di Matteo, esattamente il capitolo 18, versetti 1-5, e poi più avanti il versetto 10. Ascoltiamo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo «Chi è dunque più grande del Regno dei Cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel Regno dei Cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo, nel mio nome, accoglie me. E guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei Cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei Cieli». Quest'ultima parola di Gesù motiva il perché la Chiesa sceglie questo Vangelo nella festa dei Santi Angeli Custodi. Ma cerchiamo di coglierlo nel suo insieme, questo brano di Vangelo. ritorna a un tema che ho commentato qualche giorno fa. Chi è il più grande nel Regno dei Cieli? Gesù è molto netto. c'è una condizione per entrare nel Regno dei Cieli. Entra nel Regno dei Cieli solo chi diventa come un bambino. La caratteristica del bambino è di saper ricorrere al genitore, al papà e alla mamma. Diventare bambino vuol dire coltivare una dimensione di estrema fiducia e abbandono nel Padre, in Dio Padre. quello che ci ha insegnato ieri la figura di Santa Teresa del bambino Gesù. Umile e affidata all'amore misericordioso del Padre. Ma Gesù poi chiede tre cose ai Suoi discepoli. La prima dice diventare come bambini, accogliere i bambini, non disprezzare i bambini. Per bambini si intende i più piccoli, i più sprovveduti, i più poveri, i più abbandonati. Diventare, accogliere, non disprezzare. Ma siccome il diventare e l'accogliere l'abbiamo già commentato, è utile che noi ci fermiamo su quell'ultima frase di Gesù, che dice esattamente guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli perché io vi dico i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Questo Vangelo motiva la fede della Chiesa. La fede della Chiesa ci dice che accanto ad ogni uomo, ad ogni discepolo, ad ogni battezzato, è presente, sta, vigila, custodisce, con amore, un angelo messo lì da Dio, uno essere spirituale che agisce per il bene del discepolo di Gesù, appunto, l'angelo custode. E qui Gesù descrive l'angelo custode come colui che vede sempre la faccia del Padre che è nei cieli. ma vede per che cosa? Per recare al Padre il nostro vissuto quotidiano, la nostra fatica, le nostre gioie, le nostre preoccupazioni, quello che ogni giorno ci è dato di vivere. Bello, questo ponte di comunicazione tra me, Dio, attraverso l'angelo che custodisce e riporta. Beh, in questa festa cambiamo preghiera. Mi piace usare la preghiera all'angelo custode, quella preghiera che la mamma mi ha insegnato. E potremmo dire così, la ricordate, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. A me. Ecco, ringraziamo il Padre che nella sua pietà mette accanto a noi un essere spirituale che custodisce, che vigila, che guida, che intercede. E ci benediciamo anche oggi questa benedizione che ha il significato di uno sguardo buono, uno sguardo che chiede il bene, uno sguardo che intercede il meglio. il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona festa dell'Angelo Custode. Arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.